vi occupo del pallone, faccia velocissimo il tiro mamma mia che gol Lady's Cup, quarta giornata, 500 miles contro Kennedy Gale, quinta giornata, abito Sandro Stanziano, i protagonisti si apprestano ad arrivare al centro rampo per il saluto iniziale. Saluto il Bucca al lupo delle due squadre, questo è il tocco dei due capitani, capitane? Ok, quindi balla a noi, no, balla a noi. Bucca al lupo delle due squadre, quarta giornata, Lady's Cup, Kennedy Gale contro 500 miles, seguiamo tutto il primo tempo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.